la madonna delle conchiglie è arrivata restituita dal mare senza carte senza la scorta senza permesso senza passaporto e di un fuggiasco così come era ne abbiamo fatto la madonna nera e la madonna dei naviganti protegge gli ospiti come i viandanti volta l'onda e poi la rivolta mentre tremola sopra la barca sopra la barca la portano fuori guarnita tutta di conchiglie e fiori benedice chi si avventura chi ha il cuore saldo e chi si ha paura chi viene arriva con le fanfare chi arriva solo e spuntato dal mare a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti